Buongiorno. Oggi sono passati tre mesi dall'intervento, due mesi e mezzo, anzi, a dire la verità. Sono estremamente contento, ho un'ottima visione, dimenticata da tanti anni, perché io ero un mio pe... tosto. E quant'è il che abbiamo corretto? Si ricorda qualsiasi difetto? Era meno 8,5 di atrie per occhio. Per cui era una miopia più che discreta, direi. Perché oltre ad avere avuto un ottimo recupero, non ho avuto nessun tipo di fastidi, sofferenze, e quindi sono estremamente... E' stato molto lineare a regolare, anche il recupero post-operatorio. E anche l'assistenza e la cortesia, secondo me, è di massimo livello. Bene, questo ci fa sempre molto piacere. Ascolti, colgo l'occasione per pubblicarle che ha un'ottima vista, siamo sui dodicidesimi, ancora in fase di miglioramento, per cui punto al massimo che lo raggiungeremo tra i due o tre mesetti. Molto bene, speriamo che il resto della salute vada di pari passi. Speriamo, forse sempre così. Grazie, grazie.